vediamo come si esegue il butterfly in piedi di fianco al palo le braccia si trovano in posizione stronghold a questo punto inverto in strada di aggancio la gamba esterna al palo e porto la mano interna che in questo caso è la destra verso il basso con le dita rivolte al pavimento uso questo braccio per spingere il corpo e portarlo lontano dal palo sposto l'altra gamba sopra e dietro il corpo piegandola all'indietro il piede della gamba non agganzata si trova rivolto verso il pavimento rivediamolo da altre angolazioni vediamo insieme come si esegue l'assistenza mi posiziono dietro al partecipante cercando di non essere d'intralcio durante l'esecuzione e ne mantengo i pianti aiutandolo nello spostamento della gamba all'indietro grazie per aver guardato il nostro tutorial seguiteci anche su instagram e facebook link in descrizione ciao e al prossimo tutorial